Berlusconi dice noi del centro-destra non faremo mai accordi con il PD e siamo in salute. Il fatto che Forza Italia sia in salute c'è qualche dubbio legittimo che tutti possono avere, soprattutto quelli che conoscono bene il centro-destra, dice sono arrivate persone da noi, beh sono andate via anche tante purtroppo, è quella base che forse al Cavaliere non è nota ma che comunque fa danni sul territorio, ne ho presenti alcuni che vedono questa zuppa e che ci ricordano il fatto di cosa sia questi piccoli satrapi locali che esistono in Italia che in realtà pensano non tanto al bene di un centro-destra ma il loro personale tornaconto.